Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat Na Day? Cosa mangio in un giorno? Anche oggi faremo insieme delle ricette super facili, sane e perfette per una dieta equilibrata. Inoltre quest'oggi vi mostrerò alcuni prodotti molto molto interessanti di questa azienda che si chiama Nutre che si occupa di alimentazione sana e hanno prodotti per tutte le tipologie di esigenze. Quindi oggi scopriremo insieme alcuni di questi prodotti. E partiamo proprio dalla colazione dove oggi prepareremo questi Fit Pancakes utilizzando un preparato per pancakes di questa azienda. Sono facilissimi da preparare, sono senza glutine, sono vegani ed è un preparato ricco di proteine. Apriamo la confezione e versiamo la polvere all'interno di una ciotola. A questo punto dobbiamo semplicemente aggiungere dell'acqua. Questo composto non ha zucchero all'interno quindi se volete potete utilizzare il dolcificante che preferite. Io in questo caso andrò a utilizzare l'eretritolo che è un dolcificante naturale senza calorie ed è perfetto per la preparazione dei nostri dolci Fit. Ne vado ad aggiungere davvero pochissimo, poi ovviamente qui va a gusto. A questo punto dovete semplicemente aggiungere dell'acqua al composto e l'acqua indicata sulla confezione. Mescolate gli ingredienti insieme e otterrete la pastella per i pancakes. A questo punto io per renderli ancora più golosi vado ad aggiungerci qualche goccia di cioccolato e sono pronta per passarli in padella. Mi unisco di padella antiaderente e utilizzo anche un po' di olio di cocco. Questo è bio ed è sempre dell'azienda Nutre. Ovviamente ragazzi se volete provare questi prodotti vi lascio qui scritto il mio codice sconto. È un codice sconto del 15% che potete utilizzare sul loro sito. Io vi consiglio di approfittarne anche perché adesso c'è anche il Black Friday quindi potete provare tantissimi dei loro prodotti a prezzi scontati. Allora vado a cuocere i miei pancakes e la mia colazione è pronta. Per rendere ancora più sfiziosi i nostri pancakes vado ad aggiungerci il burro di arachidi al cacao. Davvero una sorpresa per me perché non l'avevo mai provato ed è buonissimo perché ovviamente si sente il sapore del burro di arachidi con questo pizzico di cacao che lo rende ancora più goloso. Buonissimo davvero dovete assolutamente provarlo. Poi è cremosissimo quindi è perfetto sui pancakes. La colazione è pronta non mi resta che mangiarli. Sono davvero super super soffici potete vederlo anche voi dal video. Si sciolgono in bocca. Allora passiamo al pranzo. Prepareremo insieme una torta invisibile di zucchine. Si chiama torta invisibile perché non contiene farina ma bensì semplicemente un ripieno di tante tante zucchine e solamente fecola di patate e uova. Facilissima anche questa da preparare. Allora vi occorreranno due zucchine grandi, abbastanza grandi. Le tagliate sottili, le mettete da parte. Nel frattempo in una ciotola andate a rompere due uova, le sbattete bene e ci andiamo ad aggiungere la fecola di patate. Un formaggio spalmabile, un'alternativa yogurt greco e un pizzico di lievito istantaneo per torte salate. A questo punto mescolate gli ingredienti insieme. Ci aggiungiamo anche le zucchine. Il composto andrà direttamente all'interno di una tortiera dal diametro di 18 cm e in forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti fin quando comunque si sarà ben dorata. Al di sopra potete metterci o del pangrattato per renderlo ancora più croccante o una spolveratina di parmigiano se vi piace, altrimenti potete anche non metterlo. La nostra torta salata è pronta ed è un pranzo secondo me completo. Passiamo allo snack, uno snack ricco di frutta. Questo è un budino al kaki e al cacao. È facilissimo da fare perché ci sono solamente due ingredienti ed è davvero super super sano e goloso allo stesso tempo perché è veramente molto dolce grazie alla presenza del kaki. Allora, basta mettere all'interno di un mixer il kaki, togliendo ovviamente i noccioli che ci sono all'interno. Mettere un cucchiaino di cacao amaro, mixare i due ingredienti insieme, versarli all'interno di stampini in silicone o stampi da muffin, metterli in freezer per qualche minuto, 30 minuti circa, poi dipende anche dal freezer, fin quando si solidifica. Dopodiché lo sformate, una spolveratina di cacao amaro e il vostro snack è pronto. Buonissimo, sano e veloce da preparare! Per cena ho deciso di preparare questo pane proteico, sempre dell'azienda Nutre, è povero di zuccheri, ricco di fibre e senza glutine. Anche questo è davvero super facile da fare perché vi basterà mettere l'intera busta all'interno di una ciotola, versarci l'acqua indicata sulla confezione, mescolare gli ingredienti insieme e creare un panetto. Questo panetto, dopodiché, andrà direttamente nel forno a 170 gradi per circa 90 minuti o fino a quando il pane sarà diventato bello dorato. Una volta pronto, lasciatelo raffreddare completamente e io ho deciso di gustarlo insieme a qualche fettina di fesa di tacchino, pomodorini e rucola. E la mia cena è pronta! Ragazzi e ragazzi, spero tanto di avervi dato qualche idea per i vostri pranzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Mi ricordo il codice sconto che potete utilizzare sul sito Nutre, vi lascio tutte le informazioni scritte sia qui sul video che sotto nell'info box. Io ho ancora qualche prodottino da utilizzare e lo vedrete sicuramente nei prossimi video. Intanto vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Ciao!